Contrastare gli effetti della crisi economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione via ai cantieri di servizi per disoccupati o inoccupati, stanziamento 50 milioni di euro. Lo ha deliberato la Giunta regionale di Rosario Crocetta il 17 luglio scorso. Tutti i comuni potranno richiedere finanziamenti per attivare i cantieri di servizi, dovranno redigere uno o più programmi di lavoro finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali, sia con riferimento agli ordinari compiti di istituto che per far fronte a situazioni straordinarie. Il programma di lavoro può concernere qualunque tipologia di interventi, purché si tratti di interventi riconducibili a compiti istituzionali dell'ente locale, ad esempio attività di custodia e pulizia dei parchi, servizi e giardini, attività di manutenzione stradale ed ecoro urbano, attività di accudimento alle persone anziane e diversamente abili, attività di raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata. Le attività di mera custodia o altri servizi di attesa dovranno essere riservate ai portatori di handicap. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale di questa disposizione, i comuni interessati sono tenuti a trasmettere alla Regione la richiesta di finanziamento per la realizzazione di uno o più cantieri di servizi, eventualmente ripetibili nel corso dell'anno, fino ad esaurimento del finanziamento concesso. Ogni programma di lavoro che deve prevedere l'impiego di almeno 10 persone, fino ad un massimo di 20 persone. I programmi di durata non superiore a tre mesi potranno essere replicati nel corso della stessa annualità, purché vengano ammessi altri beneficiari scorrendo la graduatoria. Destinatari dell'intervento sono tutti soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni, garantendo nell'ordine. Giovani di età compresa tra i 18 e i 36, soggetti da 37 a 50 anni, ultra 50 anni, immigrati in possesso di regolare premesso di soggiorno e portatori di handicap. I comuni individueranno i soggetti da inserire nei cantieri di servizi sulla base del reddito familiare.